una passeggiata tra l'armonia della natura e l'incanto del fiume oio dove ogni scorcio diventa un'opera d'arte da catturare con lo sguardo e con l'obiettivo esplorare fotografare e lasciarsi incantare dalla bellezza che ci circonda siamo appena all'inizio ma qualcuno ha già trovato il suo angolo di pace per godirsi il relax totale della natura la pigrizia regna sovrana e perché non concedersi questo dolce piacere di starsene comodi sta da dio un po' posto come olio i riflessi le campagne come colonna sonora te lascia rulea da dove c'è anche la fire goza dai dove c'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.